Perché Enzo mi promise tre pezzi, perché io avevo venti minuti a disposizione e non sapevo che i suoi pezzi non finivano mai. Fu un'ora e mezza, bellissima, ma un'ora e mezza. Eravamo rimasti in venti, con venti, ma venti. E lui non era triste, perché secondo lui, l'artista è un operaio e il pubblico è il padrone. E l'operaio deve resistere un minuto di più del suo padrone.